Incredibile, dopo la grandine, vediamo la grandine per terra, vediamo il rumore della grandine che sta cadendo, è davvero incredibile, non volevo crederci e invece... Ecco, vediamo proprio, posso notare la violenza e la irruzione fredda, con vento già al suolo uno stato di grandine, ovunque, già tutto bianco, anche la strada. Guardate, guardate, le macchine, tutto bianco, guardate la grandine, grandine e grapple insieme, incredibile, in pochi secondi, guardate che roba, fantastico, incredibile. Tutto bianco, rapidamente, in pochi secondi, si è accumulata, adesso sembra quasi tutta neve. Incredibile, davvero.